Autotrasporti Sandro Carrai a Portoferraio opera nel settore dei trasporti e distribuzione merci, affiliato TSS Gruppo per la distribuzione regionale e DHL per quella nazionale e internazionale. Il Credit Start, il nuovo finanziamento previsto dalla Banca di Credito Cooperativo dell'Isola d'Elba per le aziende che operano nel commercio e nel turismo, è accolto con plauso unanime dalle categorie produttive, le prime a proporla all'Istituto di Credito Elbano per arginare le difficoltà conseguenti alle nuove normative comunitarie. Abbiamo trovato questa opportunità di dargli un finanziamento ad hoc che li consenta di acquisire, come negli anni passati, le quantità di merci che gli sono necessarie per la stagione e poi pagarle, come è sempre successo, con tempi di alta stagione. E questo li dà la possibilità di acquistare con prezzi più vantaggiosi che poi si ripercuoteranno sulla diminuzione dei prezzi a livello del consumo. Anche se noi non siamo direttamente coinvolti dalla normativa sulle merci deperibili, è comunque un aiuto per tutte le aziende che aprono in anticipo. Questa iniziativa della Banca di Lebo è importantissima per noi perché noi abbiamo grossi quantitativi di scorta all'inizio di stagione. Fino all'anno scorso li abbiamo acquistati all'inizio di stagione con pagamenti alla fine, con due vantaggi. Uno che si pagava quando avevamo già consumato il prodotto. Seconda cosa, riuscivamo ad avere dei trattamenti diversi. Una cosa è acquistare due cartoni di pomodoro, una cosa è 100 cartoni. Quindi due vantaggi, il pagamento dopo e acquisti migliori. Ora non lo possiamo più fare perché entro 30 giorni va pagato il prodotto agroalimentare di consumo. Quest'iniziativa della Banca ci permetterà di avere delle risorse per poter fare gli acquisti come prima e avere gli stessi vantaggi. Ma sicuramente è una bella risposta e tempestiva soprattutto su una nuova problematica che sta emergendo. E questo aiuto che offre la Banca aiuterà sicuramente a superare questo momento di difficoltà anche perché le imprese hanno bisogno di fare degli approvvigionamenti all'inizio di stagione. E quindi devono sborsare prima ancora di incassarli. Sicuramente una risposta buona e credo che troverà un certo riscontro da parte dei nostri sociali.